Alpha State Quando ho scritto questa canzone che vi faccio ascoltare adesso volevo rendere grazie, proprio ringraziare una cosa che mi ha cambiato completamente la vita e che è la meditazione Meditation is the key Close your eyes, relax and breathe Quel processo per cui al limite stai solo 10 minuti a respirare, aria dentro, aria fuori e cambia tantissimo la qualità del tuo stato d'animo, dei tuoi pensieri e via dicendo e raggiungi appunto lo stato alfa, cioè lo stato di rilassamento, di maggiore lucidità, di maggiore tranquillità L'Alpha State Ero proprio fissato Ero Grazie a tutti